Altro che scuola è un canile. Non possiamo mandare i nostri figli alla rovina. Monta la protesta dei genitori nella succursale dell'Istituto Professionale di Bari, Santarella, dove da giorni i ragazzi non vanno a scuola. Degrado e disagio sociale fanno da cornice alla scuola, che si divide in due quartieri difficili, Iepige e Madonnella, e dove in tre giorni sono avvenute aggressioni ai danni dei professori e del personale scolastico. Le proteste degli alunni e di alcuni genitori dei giorni scorsi sono dovute al trasferimento di quattro classi alla succursale di Iepige in via Gentile. Abbiamo paura, dicono dal canto loro i professori, vogliamo un presidio fisso di forze di polizia. Come si fa a insegnare a qualcuno che ti butta la cattedra addosso? Intanto ieri mattina nel corso dell'assemblea sindacale con i docenti dell'Istituto Professionale, da ieri presidiato dalla Digo, sei cancelli, si è deciso di far memorizzare sul registro elettronico una foto corredata da nome e cognome per ogni studente, in modo da essere certi che i ragazzi che accedono all'Istituto sono effettivamente studenti. A darne notizia è Antonella Vulcano della Segreteria Provinciale della FILC CGL Bari. Il preside Carlo De Nitti metterà a punto una circolare con i dettagli della procedura e l'incarico a un docente di fotografare gli studenti previo autorizzazione delle famiglie. Un'altra ipotesi è quella di totare gli studenti di un cartellino identificativo, una sorta di beige. Docenti, persone alleate e dirigenti che operano in piena emergenza educativa sono gli unici a occuparsi di molti adolescenti a rischio della città. Bisogna assicurare loro un'adeguata vigilanza e quindi un maggior numero di collaboratori scolastici. Interviene così il segretario CISL Scuola Domenico Maiorano. Intanto ieri mattina sopra luogo di assessori e tecnici all'interno della succursale vandalizzata di Via Gentile. È urgente dare una risposta ad un atto di inammissibile vandalismo e violenza, comenta l'assessore comunale all'istruzione Paola Romano. Istituiremo una task force interistituzionale dedicata e il Comune già dai prossimi giorni garantirà una maggiore sicurezza attraverso il distaccamento di una patuglia della Polizia Municipale. A sopra luogo hanno partecipato oltre al preside l'assessore regionale Alba Sasso il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Mario Trifiletti e i tecnici della provincia di Bari, ente incaricato dell'edilizia scolastica. Già avviati i lavori di adeguamento di quattro aule, a breve anche il progetto di rifacimento del laboratorio fanno sapere dalla provincia. Nel frattempo le quattro classi destinate alla succursale saranno ospitate nell'istituto Marconi alle spalle della sede centrale del Santarella.